dalla posizione di shavasana pieghiamo le gambe e portiamo le mani sotto le spalle ora spingiamo sia con le braccia che con le gambe cercando di sollevare il corpo in arcandolo in chakrasana rimaniamo per qualche respiro in questa posizione poi quando sentiamo stanchezza scendiamo e ritorniamo in shavasana ora per rilassare un po' con la schiena pieghiamo le gambe portiamo le ginocchia al petto abbracciamo le ginocchia in apana asana